Sì, va a scuola di Carducci di Catania. Quando cinque anni fa hai iscritto tuo figlio a scuola, ti è stato chiesto di mostrare il permesso di soggiorno? No, mai mi hanno chiesto il permesso di soggiorno. E se l'avessero fatto, saresti stato in grado di mostrarglielo? Sì, certo. Perché avevo permesso di soggiorno e già ce l'ho permesso di soggiorno e voglio mandare a scuola in Natale. Cris, e se non l'avessi avuto il permesso di soggiorno e tuo figlio non fosse stato accettato? Io accettavo magari di pagare per la scuola. Perché è importante che il figlio di un immigrato frequenti le lezioni scolastiche, Cris? Perché la prima cosa è proprio per integrarsi in Italia, quando un giorno sarà in grado di leggere le bollette che viene a casa mia, che certe volte non capisco, lui mi aiuta, la scuola, quando la mestra mi chiami, che certe volte non capisco le cose, che lui mi spiega. Un giorno può integrarsi in Italia, Prima quando sono venuto, gli altri immigrati quando sono veniti qua in Italia, ora i figli che sono nati e gli stanieri sono tanti qua in Italia. Io penso che magari hanno dritti di andare a scuola per imparare la lingua italiana. Grazie a tutti.